Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata all'espulsione del sindaco di Gela Domenico Messinese dal Movimento 5 Stelle. La notizia è giunta dai vertici regionali nella serata di ieri, sentiamo. Il Movimento 5 Stelle spelle il sindaco di Gela Domenico Messinese, è il primo caso in Italia. Le nubi erano dense all'orizzonte da alcuni giorni ad offuscare le 5 Stelle e infine furono fulmini e saette. Cadono le 5 Stelle al comune di Gela ed è fuoco incrociato di accuse e risposte alle accuse. E si tratta di veri e propri botti di fine anno, deflagranti. Il sindaco Domenico Messinese non fa più parte del Movimento in quanto venuto meno agli obblighi assunti con l'accettazione della candidatura. Si è dimostrato totalmente fuori asse rispetto ai principi di comportamento degli eletti nel Movimento 5 Stelle e anche alle politiche ambientali, energetiche e occupazionali più accreditate in ambito europeo. E' quanto stabilito dal Movimento 5 Stelle Sicilia alla luce del comportamento tenuto fino ad oggi da Domenico Messinese, sindaco di Gela eletto nelle fila del Movimento. Messinese prosegue il Movimento 5 Stelle Sicilia. Non ha provveduto al taglio del proprio stipendio, nonostante il Consiglio Comunale di Gela abbia votato anche un atto di impegno in questo senso, col fine ulteriore di generare un effetto domino normativo che avrebbe portato automaticamente alla riduzione delle indennità degli assessori e dei consiglieri. Messinese aggiunge il Movimento 5 Stelle Sicilia ha avallato il protocollo di intesa tra Eni, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Siciliana. Un accordo che il gruppo parlamentare all'Ars del Movimento 5 Stelle ha osteggiato con tutte le sue forze, non soltanto perché è in aperto contrasto con i suoi principi, ma anche perché è contrario alle più accreditate politiche di tutela ambientale, energetiche, occupazionali e di economia turistica. Il sindaco di Gela invece di metterlo in discussione e bloccarlo l'ha accettato consentendo che sul territorio di Gela si avvini attività di esplorazione e produzione di idrocarburi con la perforazione di nuovi pozzi e la riapertura dei vecchi, in questo contribuendo a deturpare ulteriormente il paesaggio e compromettendo inevitabilmente l'equilibrio biologico delle acque costiere, oltre al grave danno derivante all'economia turistica della zona. In ultimo conclude il Movimento 5 Stelle Sicilia avallando questo protocollo messinese accetta la riconversione degli impianti per la produzione di olio di palma per avviare i piani di recupero dei livelli occupazionali. Programmi vetusti, totalmente avulsi dalle politiche energetiche e ambientali dettate dai nuovi obiettivi europei e di conseguenza piani che si stanno rivelando completamente inutili. Il Movimento 5 Stelle Sicilia non fa alcun riferimento nella sua nota all'epurazione dei tre assessori, l'orefice da Mante e di Paola, dalla giunta capitanata da messinese avvenuta negli ultimi giorni e dei contrasti con il gruppo consigliare Grillino. Ma da più parti si sostiene che siano stati proprio questi episodi a portare il Movimento a livello regionale, a non riconoscere il primo cittadino gelese come attivista 5 Stelle. Si chiude un anno col botto politico a Gela, se ne preannuncia un altro, altamente esplosivo. Sul provvedimento giunto ieri sera il sindaco Domenico Messinese risponde, lo abbiamo sentito. Molte delle affermazioni sono totalmente infontate e pretestuose. Di conseguenza non so da chi abbiano avuto le informazioni, anche perché io personalmente non sono stato contattato e fra le altre cose gli atti ufficiali e le azioni intraprese da questa amministrazione sono perfettamente in linea con quello che avevamo previsto all'interno del nostro programma elettorale e per quello che noi crediamo come fondamentale, come acqua, rifiuti, come crescita di un territorio. Devo riuscire a capire le motivazioni di queste accuse, perché accusare è facile. Ritorno a ripetere, sono accuse pretestuose e quello che più mi colpisce è che non sono stato contattato direttamente per avere delle risposte e debbo sapere dalla stampa che sono stato espulso da un movimento in cui credo e che i miei valori e i miei principi si identifica. È chiaro che il mio compito è quello di servire la città ed è quello che continuerò a fare nel miglior modo fino a quando ci sono le condizioni. Dopo di come prenderò le mie decisioni, però sono sicuro che la città di Gela, con tutti i problemi che ha, il vero problema è l'occupazione e lo sviluppo del territorio e non certo se qualcuno fa parte di un simbolo o di un altro simbolo. Il mondo reale ha delle regole diverse rispetto al mondo virtuale, dove in realtà questo tribunale ha sancito la mia espulsione in modo del tutto autonomo e non so nemmeno fino a quando legittimo. Lasciamo la politica e cambiamo argomento. Bilancio di fine anno per la Guardia di Finanza a Gela. Vediamo. Sono tanti e tutti diversi i fronti sui quali la Guardia di Finanza a Gela ha lavorato in questo 2015 che si conclude oggi. Attività intense che hanno visto le fiamme gialle impegnate sia nel campo della prevenzione dei reati che in quello della repressione. Il capitano Massimo De Vito traccia un bilancio dell'anno trascorso. Diversi sono i punti cardine dell'attività della Guardia di Finanza. Anche a livello nazionale, come negli altri anni, molta attenzione è stata fatta a quella che è la tutela delle uscite. Proprio perché in un periodo particolare andiamo a controllare quelli che sono i modi in cui vengono spesi i soldi che la collettività raccolgono per alimentare lo Stato. Così anche a Gela quest'anno noi siamo impegnati nel controllare questo settore e insieme alla tutela delle uscite siamo stati anche molto attenti alla tutela del mercato in generale e della concorrenza leale. Queste attività sono state fatte con attività quotidiane, diuturne, come potevano essere i controlli su strada, la lotta alla contraffazione e il rispetto della normativa fiscale più spicciola, come i controlli in tema di scontrino ricevute, quelli che vengono fatti quotidianamente nei negozi. Accanto a questi servizi quotidiani sono stati intrapresi anche servizi di maggiore spessore, di maggiore rilevanza, quelli che vanno a toccare settori un po' più delicati, come i famosi crimini legati ai colletti bianchi, agli appalti pubblici, ai fallimenti, che purtroppo in questo periodo sono stati molto costanti, specie nella nostra circoscrizione. Accanto ai maggiori settori di cui parlavo prima abbiamo anche tenuto a cuore la tutela dell'ambiente. Gela è una città particolare dove la tutela dell'ambiente ha una particolare valenza. Ed ecco che quindi tutti questi servizi fatti in tema di contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti, ma anche attività di polizia giudiziaria vera e propria, svolta nel settore, sono proprio finalizzate a restituire a Gela quello che è il suo territorio e cercare un po' di liberarlo dalla morsa dell'inquinamento. Infine è stata ovviamente rivolta l'attenzione a tutela delle entrate. È un periodo di crisi e ovviamente siamo stati attenti a non andare a intaccare situazioni già borderline, che potevano in qualche modo mettere in crisi economica, società fondamentalmente serene, sane, ma che stavano attraversando un periodo di particolare difficoltà. Invece siamo andati a guardare quelle società che del crimine, dell'evasione, del non rispetto delle regole avevano fatto il loro cavallo di battaglia quotidiano. L'anno prossimo ovviamente tutte queste attività verranno ancora una volta intraprese, i punti cardine rimangono gli stessi. Speriamo di ottenere degli ottimi risultati perché la città di Gela se li merita. Colgo l'occasione di questi pochi minuti per fare il mio augurio per un 2016 importante e ricco di soddisfazioni a tutti i cittadini. Un calendario realizzato dalla Proloco di Gela con i pensieri dei detenuti della casa circondariale di Contrada Balate. Un progetto che si inneste in un ampio percorso di proficua ed efficace collaborazione tra le due realtà locali. Vediamo. Una nuova occasione di riflessione ai detenuti del carcere di Contrada Balate a Gela. La proposta alla Proloco di Gela che attraverso l'eccellente collaborazione con la direzione dell'Istituto di Pena ha realizzato il calendario 2016 dal titolo Libertà e partecipazione, citando un vecchio brano dell'intramontabile Giorgio Gaber. Sono stati i detenuti ad elaborare i pensieri per ogni mese dell'anno. L'iniziativa è stata presentata nella sala a riunioni del carcere, alla presenza dei vertici della direzione della casa circondariale, della polizia penitenziaria, della giunta comunale e dei rappresentanti della Proloco. Enfatizzerei la parola partecipazione perché la solitudine non porta a nulla. Probabilmente quando c'è un problema il primo pensiero è isolarti. Spesso abbiamo detenuti che vedono nell'altro il loro problema, l'avere compiuto delle cose è stato a causa di altri. E allora cosa scelgono? Scelgono di isolarsi. L'isolamento non è cosa buona. Partecipare, scommettersi, darsi, dare all'altro, creare relazioni. Le relazioni creano problemi ma perciò solo non finiremo mai di scommetterci, di partecipare. Come Proloco siamo contentissimi per questa bellissima iniziativa che abbiamo portato avanti nata dall'intuizione del nostro socio. È un calendario dove ogni detenuto ha potuto scrivere una frase che in realtà non è una semplice frase ma sono dei messaggi. È un calendario unico in Italia perché proprio in ogni mese c'è una frase scritta da questi detenuti dalla casa circondariale di Gela. La cosa bella è che questo calendario ha un titolo, libertà e partecipazione. Libertà ovviamente è fondamentale perché non ci può essere l'una senza la partecipazione dell'altra. La cosa importante che noi consideriamo come evento è questo non dimenticarci degli ultimi e questo ci dà in qualche modo quel senso di appartenenza anche alla società. È una bella iniziativa dove è stato presentato un lavoro con i pensieri dei detenuti del carcere di Gela. un modo per poter integrare delle persone che sicuramente nella loro vita hanno avuto dei problemi ma che sono qui all'interno di questa struttura per poter pagare per i propri errori ma per poter mettere quelle condizioni per iniziare una vita nuova, diversa. Il progetto grafico è stato curato da Elisa Enedino e Gianni Caputo. La stampa porta la firma della tipografia Franco Gulizzi. Importante è anche l'apporto fornito dal Free Press Made in Sicily edito da Giacomo Gulizzi. Il calendario è in distribuzione gratuitamente anche col prossimo numero del Corriere di Gela diretto da Rocco Cerro. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crocifisso Ragona. Domenica 3 gennaio prossima alle 19 è prevista il concerto dei migliori alunni dell'Istituto Musicale certificato Nova Gelas. Questa era l'ultima notizia della prima parte del nostro telegiornale la linea alla regia per la pubblicità tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal Comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale mostra di presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio eventi mostra di presepi albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici. seconda mostra dei presepi presepi in comune realizzata dalle scuole locali è promossa dall'associazione turistica Proloco Gela potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio previsti intrattenimento e degustazioni l'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30 la cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17.30 Nell'ambito del Giubileo della Misericordia la Forania di Gela prepara un evento in occasione dell'apertura della Porta Santa presso la piccola Casa della Misericordia il 6 gennaio prossimo alle 10.30 in Chiesa Madre inizierà la celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo insieme ai sacerdoti della città e subito dopo si snoderà la processione verso l'ex orfanotrofio Regina Margherita dove Monsignor Rosario Gisana aprirà la Porta Santa della Misericordia che rimarrà aperta fino al 6 novembre 2016 Continuano gli appuntamenti col grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892 oppure 345 58 80 580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino L'associazione Sport, Musica, Arte e Folclore promuove il presepe vivente che sarà allestito all'interno di un circuito di antichi cortili del quartiere Canalazzo L'appuntamento è previsto per il 6 gennaio prossimo L'evento porterà a riscoprire una tradizione secolare come il presepe che rappresenta oltre le classiche scene della natività la ricostruzione di ambienti e spazi di lavoro che richiamano la tradizione storica del territorio All'ingresso del presepe al visitatore sarà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia con il quale biglietto avrà il visitatore il diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del territorio l'orario di apertura al pubblico della manifestazione prevista appunto per il 6 gennaio prossimo sarà dalle 19 alle 24 è stato allestito nella piazza San Francesco il presepe realizzato nella parrocchia San Francesco d'Assisi con la collaborazione dei giovani del movimento giugovanile e del gruppo archeologici d'Italia Trischelion il presepe è composto da elementi ad altezza uomo di matrice napoletana e potrà essere visitato tutti i giorni fino al 6 gennaio prossimo c'è anche il gelese Walter Micichè tra i convocati in qualità di docente ad un corso nazionale per tecnici sportivi vediamo c'è anche il gelese Walter Micichè tra i convocati dalla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di docente per lo stage di formazione per tecnici nazionali per l'ottenimento della qualifica di esperto nelle attività di base e formazione giovanile che si svolgerà dal 2 al 5 gennaio prossimi a Castellammare di Stabbia inoltre Micichè svolgerà il ruolo di collaboratore presso il Gym Campus Invernale ancora una volta dico grazie alla Federazione Nazionale di Ginnastica perché mi ha convocato al Gym Camp Nazionale il Gym Camp verrà fatto a Castellammare a Napoli avrò in quell'occasione una duplice veste una come collaboratore dello staff perché ci saranno 40 ginnasti che dovremo allenare e l'altra parte è quella che vengo convocato come docente per quanto riguarda lo stagio numero 3 e 4 con l'obiettivo della formazione tecnica di tecnici nazionali questo ovviamente mi dà il piacere di poter lavorare a grandi livelli con grandi soddisfazioni e soprattutto volevo dire grazie alla direttrice nazionale Emilia Napolini che mi ha permesso ancora una volta di fare questa esperienza Siamo allo spettacolo Piccolo Grande Cabaret è lo spettacolo con Tuccio Musumeci che andrà in scena al Teatro Eschilo di Gela sabato 9 gennaio prossimo alle 21.30 e domenica 10 gennaio alle 17.30 il botteghino rimarrà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni ci sono due numeri di telefono 0933-911-892 oppure 345-5880-580 è uno per tutti il nuovo film in proiezione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela da domani primo gennaio gli orari di rotazione della pellicola sono 17.30 19.30 21.30 vi ricordiamo che tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per farsi registrare lo hanno comunicato i padri agostiniani bene con questa notizia è tutto anche per questa ultima edizione del telegiornale del 2015 a tutti voi un buon inizio anno arrivederci un buon inizio un buon inizio